Scenderanno in campo per la squadra d'Aospedale Il numero 5 Bargelli Il numero 6 Gritti Il numero 9 Vigliatti Il numero 10 Pia Battiglia Il numero 13 Sabattini La Gretorato Potevento schierà invece Il numero 5 Pai Il numero 10 Pia Il numero 11 Battistoni Il numero 12 Piazzi Il numero 20 Piazzi Il numero 10 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 Piazzi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.